Nanno? È qui che tieni i tuoi soldi Mi raccomando, non dirlo in giro Perché non li porti in banca? In banca? Troppo insicuro Se le banche saltano, i miei soldi sono andati Non se accettiamo l'iniziativa moneta intera Allora i nostri soldi in banca diventano assolutamente sicuri Vota sì per l'iniziativa moneta intera Il tuo denaro, la tua sicurezza, il tuo futuro Se i tuoi soldi sono in banca, puoi di nuovo dormire tranquillo Senza materasso? Niente paura, te ne compro uno nuovo Allora i nostri soldi sono in banca, puoi di nuovo